Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, partiamo con i titoli dei quotidiani in edicola, il Corriere Fiorentino, la vita nuova del Ciolito, la Nazione, Tentazione Vlaovic, Montella ora ci pensa, Corriere dello Sport Stadio, Blocco Montella, tutto sport commisso a Betlemme per ricordare a stori. L'ex Cagliari Geda parla alla Nazione di Gaetano Castrovilli, mamma mia quanto è forte, ha detto il brasiliano, non me lo aspettavo così alla prima stagione in Serie A, penso che lo vedremo presto in nazionale, sarà lui il pericolo numero uno per il Cagliari domenica. Montella pensa all'ingresso di Vlaovic dal primo contro i Sardi, poiché quando chiamato in causa il serbo ha cambiato le partite, aprendo spazi e consentendo ai compagni di squadra di arrivare davanti alla porta. Si torna quindi al 3-5-2 con Chiesa più offensivo e li rola a tutta fascia. Le designazioni arbitrali per Cagliari-Fiorentina, direzione di gara affidata alla Penna, Bresmes e Fiore come guardaline, quarto uomo giù alla direzione del VAR, Doveri, assistente VAR Giallatini. Per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi